Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori perde la vita a seguito di un aneurisma cerebrale il noto conduttore televisivo e prima di sapere di più vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video, in questo video parliamo di un vero e proprio fulminaccio al sereno che ha colpito il mondo della televisione, il mondo della televisione mondiale sotto shock per la triste quanto inaspettata perdita del noto conduttore televisivo e con grande rammarico e dispiacere che il primo anno di Marco Liguori annuncia il decesso del giovane brillante conduttore televisivo scozzese Nick Sheridan era il brillante conduttore della BBC Scotland era molto talentuoso e molto apprezzato dai suoi colleghi sembrava che il giornalista fosse destinato ad una carriera brillante e promettente ma purtroppo mentre faceva jogging nel parco si è accasciato al suolo colpito da un aneurisma cerebrale purtroppo Nick non si è più rialzato il primo anno di Marco Liguori con immenso dispiacere ricorda Nick Sheridan conduttore televisivo scozzese mancato a soli 32 anni a seguito di un aneurisma cerebrale ricordiamo Nick Sheridan amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sul secondo ane di Marco Liguori e sul nuovo canale Marco Liguori psicologia e crescita personale seguitemi su tutti i social instagram facebook e tiktok ciao a tutti